Si chiude nel peggiore dei modi la stagione balneare del 2020, ma al tempo si è abbattuto su tutta la fascia costiera sud salernitana, tanti danni alle strutture balneari. I nostri danni, come vedete dalle immagini, sono degli ombrelloni, molti ombrelloni e dei gazebi. Vedete dalle cabine, dalle cannucce, tutto quello che vedete è un disastro. Si è abbattuto proprio un maltempo che noi non ci aspettavamo. Si chiude un'estate nel peggiore dei modi, pure gli altri stabilimenti hanno subito danni, oltre all'emergenza sanitaria. Qual è il bilancio di questa stagione estiva? Sicuramente gli altri operatori balneari hanno subito i danni come li abbiamo subiti noi. Come dicevi tu, la stagione balneare non è stata delle migliori quando riguarda il Covid-19 per i distanziamenti e la paura delle persone per tutto ciò che è successo. Le persone hanno paura di uscire.